Alcune idee sono così avanti per il loro tempo da essere considerate delle vere e proprie truffe. Siamo in Francia, a inizio Settecento, le spese militari hanno prosciugato le casse dello Stato. Il paese è schiacciato da un debito pubblico mostruoso e l'economia è soffocata da tasse esorbitanti. La situazione è critica. Un economista cercherà di risolvere la situazione, ma i suoi piani prenderanno una direzione ben diversa. Questa è la vicenda del primo banchiere centrale della storia che ha gettato la Francia nel caos. Ciao a tutti, io sono Edoardo, questa è Starting Finance e oggi parliamo di un banchiere visionario che ha sfidato le regole dell'economia del suo tempo, con il piccolo effetto collaterale di aver generato una delle più grandi bolle speculative della storia. Lui è John Law. John Law nasce a Edimburgo, in Scozia, il 21 aprile del 1671. Suo padre, William, è uno degli orafi della città, circostanza determinante nella vita di Law. All'epoca, infatti, gli orafi spesso esercitano anche piccole attività finanziarie. Il giovane Law cresce osservando le attività del padre e, pur non diventando mai un orafo, assorbe preziose lezioni sul credito e sulla finanza. John ha anche capacità matematiche fuori dal comune, rendendolo perfetto per questo settore. Edimburgo, però, gli sta un po' stretta. Al tempo è poco più che una via con quartieri di nobili. Alla morte del padre, nel 1692, decide di lasciare la Scozia e scendere a Londra, città che pullula di occasioni e opportunità. Il giovane Law ha affiuto sia per il denaro che per gli affari, e anche una brillantemente matematica. Ma soprattutto ama le scommesse. Qualche difetto ce l'ha anche lui. Secondo le biografie, tuttavia, sarebbe sbagliato definirlo un classico giocatore d'azzardo. E più un giocatore d'azzardo con una certa capacità con i numeri. Un po' in stile Rain Man, non so se vi ricordate il film dell'89. Nel gioco, Law usa le sue capacità per calcolare probabilità a suo favore. Sfrutta le sue abilità matematiche per gestire il rischio e massimizzare i propri guadagni. In altre parole, conta le carte. Ma è proprio la sua passione per la vita mondana a causare una serie di eventi che gli cambierà la vita. Il 9 aprile 1694, John Law partecipa ad un duello a Bloomsbury Square. In questo duello, John Law uccide l'altro ragazzo. Non è chiaro da cosa o da chi sia partita la sfida. I duelli all'ultimo sangue sono abbastanza diffusi tra i giovani europei del tempo. In particolare tra i giovani ricchi. Sono una specie di rimasuglio della vecchia cultura cavalleresca. Tuttavia, non sono esattamente legali. E così, John Law viene arrestato, accusato di omicidio e condannato a morte. Beh, insomma, non se la passa male, ecco. Alla fine, fortunatamente, la farà Franca. Contestando la decisione, riesce a far sospendere la pena e cambiare la condanna da omicidio in omicidio colposo. È successo. Quindi alla fine esce di prigione dopo relativamente poco tempo, pagando anche una buona cauzione abbastanza generosa. I vantaggi di avere i soldi. Decide allora di trasferirsi in Europa, sul continente. Questa volta però facendo più sul serio. Lasciata l'Inghilterra, al giovane John Law si spalancano le porte dell'Europa. Quando Law arriva ad Amsterdam, la città è al centro del commercio europeo. Brulica di attività. Le banche della città fanno qualcosa di rivoluzionario per l'epoca. Rilasciano e mettono banconote in cambio di monete, valutandone il peso e la purezza. Depositi una moneta, ricevi una banconota. Ridanno indietro le monete a chi riconsegna loro le banconote. È un sistema comodo per non doversi portare in giro chili di monete d'oro o d'argento. È un sistema di sicurezza. John Law è elettrizzato e intravede subito i vantaggi di questo sistema. La facilità e la velocità dei pagamenti e la riduzione dei costi di gestione. Le banconote finalmente sono leggere come piume. Niente più sacchi pesanti da trasportare e da mettere al sicuro. Una cosa più incredibile? Ad Amsterdam le banconote sono accettate da tutti come pagamento al pari delle monete. Ma questa fiducia non nasce dal nulla. Le banche di Amsterdam operano con estrema prudenza, limitano i prestiti ai privati e ogni banconota è coperta da un corrispondente valore in metallo prezioso nelle casse della banca. In altre parole, garantiscono al 100% che ad una banconota corrisponda sempre una certa quantità di oro e di argento conservata in banca. Questa politica sta facendo dei Paesi Bassi una superpotenza economica. John Law, quindi, la studia con molta attenzione. Dopo alcuni anni si trasferisce a Venezia. Non è chiaro l'anno preciso. Ma quello che sappiamo è che la città è comunque un centro finanziario di primaria importanza. John Law qui continua a divertirsi con il gioco. Dopotutto siamo a Venezia. Ma soprattutto si immerge nello studio del sistema bancario veneziano. In particolare del Banco di Rialto e del Banco del Giro. Queste banche, nate per finanziare le crociate e il commercio, emettono banconote da poter cambiare monete. Proprio come ad Amsterdam. Tornato per un breve periodo in Scozia e in Inghilterra, porta con sé questo straordinario bagaglio di conoscenza e cerca di metterlo a frutto. Così, nel 1705, Law pubblica la sua opera più famosa. Considerazioni sulla moneta e il commercio. Money in trade, considered with a proposal for supplying the nation with money. In questo saggio, Law propone una soluzione a un problema economico che al suo tempo era molto sentito. La scarsità di moneta metallica. Che è un freno per la crescita economica di molti paesi europei. L'idea di Law, semplificando, è istituire una banca che emetta carta moneta basata sul valore della terra, non dei metalli preziosi. La terra è una scelta stabile per il credito perché il suo valore, al tempo, è meno volatile di oro e di argento. Non significa che chi possiede le banconote diventi proprietario di un terreno, ma che il valore delle banconote è garantito dal valore delle terre ipotecate dalla banca. Il progetto di Law prevede quindi la creazione di una commissione di 40 membri nominati dal Parlamento, responsabile dell'amministrazione della nuova carta moneta. La commissione avrebbe avuto il monopolio sull'emissione e il ritiro delle banconote. Ecco, non so se vi suona familiare, ma è un po' la base di ciò che abbiamo oggi per la politica monetaria. Per garantirsi la fiducia del pubblico, John Law propone vari meccanismi di controllo. Ma perché la garanzia non sono i soldi e sono le terre? Beh, secondo Law, l'aumento della moneta in circolazione, garantita dal valore della terra, anziché dai metalli preziosi, abbasserebbe i tassi di interesse, facilitando prestiti e investimenti. Ma se abbiamo più prestiti e più investimenti, abbiamo più produzione. E ciò stimolerebbe l'occupazione, e quindi la crescita economica in generale. Decide di formalizzare la sua proposta ai parlamenti di Inghilterra e di Scozia, che però, purtroppo, non lo considerano. Law non si dà per vinto e propone le sue idee anche ad altri, soprattutto alla Francia. E proprio in Francia avviene la vicenda che lo renderà famoso, anche se non nel modo giusto. John Law inizia un tour in Europa, ma nel frattempo non è più solo, ha una famiglia al seguito. Durante il tour attraversa l'Austria e l'Italia e propone ovunque la sua teoria, una riforma per svincolare l'economia dall'oro e dall'argento. Ne parla con l'imperatore austriaco e il duca d'Aosta in Italia. Purtroppo entrambi, come Inghilterra e Scozia, gli dicono di no. Ma John Law ancora non si arrende. Ha già in mente la Francia, perché è perfetta per sperimentare un nuovo sistema bancario. Il paese versa già in condizioni disastrose, ha bisogno di soluzioni radicali. La povertà dilaga, la popolazione è allo stremo. Per finanziare le sue guerre e mantenere lo stile di vita sontuoso di Versailles, il re Luigi XIV ha bisogno di sempre più denaro. Ma le casse restano vuote, nonostante le tasse siano state aumentate a dismisura. Ogni soluzione sembra annegare nel vortice del debito fuori controllo. Nel 1715 muore il re Sole. John Law in quel momento è già di casa a Parigi, in Place de Vendôme, il quartiere dove risiedono i grandi finanzieri di Francia. E si è fatto amico l'uomo più potente del regno, il reggente di Francia, Filippo II, il duca d'Orléans. La Francia al tempo ha un grosso problema pratico. Non ha abbastanza oro e argento per coniare le monete. E per far fronte a questa carenza, tra il 1690 e il 1715, il governo aveva svalutato la valuta nazionale ben 40 volte. Che vuol dire che le ha svalutate 40 volte? Vuol dire che semplicemente metteva meno metallo prezioso nelle monete. E quindi poteva coniare più monete con lo stesso metallo prezioso. Ma il valore di ogni moneta, soprattutto negli scambi internazionali, diventa più basso. Dall'estero lo sanno che c'è meno metallo prezioso all'interno delle monete. Quindi le valutano di meno. Anche se il valore facciale è sempre quello. Nel 1715 la Francia si è indebitata per oltre 2 miliardi di livre tournois, la loro valuta. È una cifra enorme per l'epoca. Per molti consiglieri del reggente, l'unica soluzione che si intravede è dichiarare pancarotta. Ma non per John Law. Quindi sempre nel 1715 John Law invia una memoria al ministro delle finanze francese. Il suo messaggio? Un piano per salvare la Francia dal default. Law si dice disposto a creare un'istituzione che con un investimento annuale di 7 milioni di livre è in grado di risanare il debito pubblico francese in soli 25 anni. Sì, insomma, per una relazione 25 anni sono pochi. Il piano di Law è ingegnoso. Prevede di ritirare i vecchi titoli di Stato svalutati che sono ancora in circolazione e di emettere una nuova forma di carta moneta. Ecco, qui però c'è un cambiamento. La garanzia di questa nuova moneta non è più la terra, come Law aveva teorizzato dieci anni prima, ma i profitti della banca e le entrate dello Stato. L'obiettivo finale? Liberare lo Stato dai debiti e ridurre il peso degli interessi. Un piano ambizioso per governare la crisi finanziaria francese e rilanciare l'economia. I finanziari parigini, abituati a prestare soldi a re con rendite altissime, tremano l'idea. Hanno paura di trovarsi di fronte a un concorrente enorme mai visto prima. Lo Stato. Consapevole della resistenza dell'alta società francese a una banca statale, Law propone allora un istituto privato per far contenti tutti. In pratica una banca simile alla banca d'Inghilterra che emette a banconote e che sia finanziata dagli azionisti. Nel 1716 quindi John Law apre la sua Bank General e ha un testimonial incredibile, lo stesso reggente, Filippo II. Con la sua banca, Law partecipa subito ad un'operazione di riconiazione decisa dal ministro delle finanze francese. La riconiazione si riferisce all'azione di rimpiazzare o convertire monete metalliche esistenti con nuove monete. Cambiamo nome. Law acquista monete metalliche e offre in cambio del deposito banconote con la garanzia della conversione al valore del momento, senza tenere conto delle eventuali variazioni nel contenuto di metallo prezioso all'interno delle monete. In poche parole, le sue banconote sono garantite dal valore dell'oro e dell'argento nelle monete in quel momento, dopo la riconiazione. Non importa se domani dovesse cambiare il contenuto di metallo prezioso nelle monete, il valore di quelle banconote in oro e argento rimarrà invariato. Questa mossa ha reso le sue banconote più affidabili e più attraenti rispetto alla moneta tradizionale. Faccio di più. Nel 1717 arriva la svolta. Grazie all'autorizzazione del Duca di Orlean, le banconote di Law diventano lo strumento ufficiale per pagare le tasse e i debiti verso lo Stato. Di fatto, vengono equiparate alla moneta metallica. Sono monete di corso legale. Le banconote di Law possono essere usate anche nei commerci internazionali e questo permette ai commercianti di depositare oro nella banca di Law e scambiarlo con le banconote che sono più facili da trasportare e usare. Il Duca di Orlean fa pubblicità alla banca, deposita grandi somme pubblicamente. È un marketing antelitteram e funziona abbastanza bene. L'anno seguente John Law lancia la sua idea più originale, fare affari con le colonie d'oltremare. Terre lontanissime e piene di ricchezza. Nel 1717 fonda la Compagnia del Mississippi, una società per azioni incaricata di tutto il commercio tra la Francia e la sua colonia della Louisiana. La sua società non ha solo diritti mercantili, ma anche quello di estrarre minerali e di coltivare le terre. John Law non è più solo un banchiere, è il direttore generale della compagnia ed è ufficialmente l'uomo più potente di metà del Nord America. In cambio delle azioni, la società di Law accetta anche vecchi titoli di Stato in circolazione dai tempi del Re Sole, che nel tempo hanno subito numerose svalutazioni. La compagnia accetta di ricevere un tasso di interesse più basso su questi titoli e questo può permettere alla Francia di risparmiare denaro prezioso. Nel dicembre del 1718 la banca generale di Law diventa la banca royale. In pratica una sorta di partecipata, anzi, una vera e propria banca nazionale. Nuove filiali vengono aperte in tutta la Francia e per evitare pagamenti in monete l'uso di banconote viene dichiarato obbligatorio per le transazioni superiori a 600 livre. Gli investitori iniziali vengono ripagati generosamente con dividendi in monete. Law poi ha in mente una strategia ben precisa per risanare le finanze pubbliche francesi. Primo vuole alleggerire il peso dello Stato facendo in modo che si finanzi meno con le tasse e più con i profitti della sua compagnia. Secondo punta a fissare i tassi di interesse sui titoli di Stato allo stesso livello dei dividendi della compagnia. Terzo Law vuole sostituire definitivamente le vecchie monete metalliche con la sua nuova carta moneta. Con la trasformazione della banca generale in bank royale è diventato più complesso. Il rapporto tra quanto denaro si stampa e quante riserve d'oro e d'argento sono nelle casse della banca non è più fisso come quando la banca era privata. Il rapporto torna ad essere legato al valore delle monete che può mutare nel suo contenuto di metallo prezioso. Un dettaglio che avrà implicazioni importanti nella crisi del sistema di Law. Prima di trasformare la sua banca in bank royale infatti John Law ha controllato attentamente il numero di banconote emesse. Ad ogni banconota ha fatto corrispondere una percentuale ben precisa di monete d'oro e d'argento esattamente come ha visto fare in Olanda alla banca di Amsterdam. Ma ora in Francia la situazione è ben diversa. Sono il reggente e i suoi consiglieri a decidere il rapporto tra quanto denaro si stampa e quante riserve d'oro e d'argento sono nelle casse della banca. John Law intanto si vuole espandere ancora. Così nel 1719 acquisisce la compagnia francese delle Indie Orientali e della Cina che si fonde alla compagnia del Mississippi. Un conglomerato commerciale e finanziario gigantesco una multinazionale che promette rendite da capogiro grazie alle conquiste in terre mai viste. John Law punta a usare i redditi delle colonie per garantire il valore delle azioni e delle banconote offrendo loro una sicurezza più stabile rispetto al metallo. Ma non è semplice. Malattie, mancanza di manodopera e terreni poco produttivi rallentano tutto. I profitti non arrivano. Law deve trovare un'alternativa e veloce. Per mantenere la fiducia nel sistema delle banconote decide di usare i profitti della vendita di azioni. Da qui decolla il vero sistema di Law. Uno schema in cui vengono emesse nuove azioni legate all'acquisto delle precedenti. Lo stesso John Law che da giocatore d'azzardo è esperto di psicologia punta sulla nuova creatura acquistando subito il 90% della prima emissione di azioni della nuova compagnia per farne aumentare il valore tenendo alta la domanda. Fa un pump and dump. L'effetto domino è devastante. Tutti conquistati dalla fiducia con cui lo stesso banchiere ha investito in azioni vogliono accaparrarsi un po' di quella ricchezza. La Banco Royale stampa sempre più banconote ed emette sempre più prestiti per permettere ad un numero maggiore di persone di acquistare e commerciare in azioni e quindi i prezzi salgono. Intanto nell'agosto del 1719 in piena estate John Law partecipa alla gara d'appalto per la riscossione delle tasse e propone che la sua compagnia si occupi di farlo per conto dello Stato un'agenzia delle entrate. Offre 52 milioni di livre per avere questo appalto per nove anni. Insomma si vuole assicurare un buon futuro. Ma dove può trovare tutti i soldi per finanziare queste operazioni così importanti? John Law decide di emettere nuove azioni della compagnia del Mississippi. Ma sapete nel mondo della finanza ancora oggi l'entusiasmo a volte può essere pericoloso e all'apice del successo John Law viene nominato controllore generale delle finanze francesi. Il nuovo sistema in carica è di John Law ma questo sistema poggia in realtà su aspettative che ben presto si rivelano fallaci. Oltre mare ci sono più difficoltà che ricchezze e i commerci stentano a decollare. I coloni in realtà sono soprattutto prigionieri deportati nessuno vuole andare in territori tanto lontani in ospitali. Tra la fine del 1719 e l'inizio del 1720 comincia a diffondersi la voce che in Louisiana le cose non stiano andando bene come tutti credono. Inoltre i prezzi delle azioni della compagnia sono cresciuti a dismisura. Dalle 500 livre iniziali si arriva nell'ottobre del 1719 a un valore di emissione pari a 5000 per mantenere il prezzo così alto lo stesso John Law compra azioni dal pubblico. In pratica sta usando i soldi della compagnia per tenere alto il prezzo delle azioni. Compie quello che oggi chiameremo un riacquisto d'azioni un buyback. John Law intuisce che il gioco si è fatto pericoloso e ricordiamoci sia le banconote che le azioni possono essere convertite in oro in argento solo che il valore delle azioni è gonfiato e se troppe persone chiedessero di cambiare le banconote o le azioni in oro argento non ne avrebbe abbastanza per tutti. Per contenere il problema John Law decide di abbassare i tassi di interesse al 2% come quelli che ci sono in Olanda per rendere i prestiti più economici e far crescere l'economia reale. Almeno dice così. C'è però un problema. I primi investitori hanno fatto enormi guadagni ma i nuovi non avranno la stessa possibilità. Questo è un grosso cambiamento per l'elite francese abituata a guadagnare molto dalle speculazioni. Non ci saranno più possibilità di fare profitti straordinari in futuro. È passato l'entusiasmo. Così in tanti troppi decidono di investire in altro. È a questo punto che gli azionisti della compagnia del Mississippi decidono sempre più numerosi di vendere le azioni incassare banconote e chiedere il pagamento in oro e argento. Ma nelle casse della banca di John Law non ce n'è abbastanza per tutti. Anche i mercanti quando emergono i problemi smettono di accettare le banconote della Banco Royale. Law quindi è messo alle strette. Deve fare qualcosa per arginare la crisi. Da controllore generale delle finanze francesi Law proibisce l'esportazione di monete e lingotti per evitare che i metalli preziosi lascino il paese. Ma la gente trova alternative per sviare le regole come trasformare le banconote in diamanti e gioielli non coperti dal divieto. Law risponde allora con ulteriori restrizioni tra cui il divieto di acquistare diamanti e la limitazione dei pagamenti in metallo prezioso. Questo significa che tutte le transazioni superiori a 100 livre devono essere effettuate con banconote invece che con oro o argento. Nonostante queste misure il panico continua a diffondersi. A quel punto John Law prende la decisione più drastica eppure più moderna della sua vita. Abolire completamente le monete d'oro e d'argento. L'obiettivo è passare un sistema monetario basato interamente sulle banconote. Ma è una mossa troppo radicale per la Francia del 1700. Un paese conservatore dove non è concepibile un sistema monetario totalmente slegato dall'oro e dall'argento. Subbissato dagli attacchi senza più la protezione del reggente John Law decide di lasciare tutto e tornare a Venezia. Montesquieu che li fa visita nella laguna lo descriverà come un uomo con pochi mezzi ma a cui piace puntare grosso e rischiare con la testa immersa nei calcoli. Ma allora il sistema di John Law è stato solo una truffa? Come dicono molti dei suoi contemporanei? Gli economisti più moderni non la pensano così. Era solo troppo avanti per il suo tempo. Il suo sistema è collassato principalmente perché le aspettative sui reali profitti della compagnia sono state completamente disattese. Non c'erano fiumi di oro e di smeraldi al di là dell'oceano in Louisiana. Il sistema del banconote dopo tutto funziona e molti sostengono che non sia colpa sua se il sistema è collassato alla fine. Per molti altri aspetti John Law è stato un pioniere della finanza moderna. Ha compreso che l'espansione del credito e la circolazione di moneta stimolano l'economia. In pratica quello che tutt'oggi fanno le banche centrali quando fanno politiche monetarie espansive per rilanciare la crescita. La stessa creazione di una banca che ha il monopolio per emettere banconote garantite dal governo è uno dei pilastri dell'economia moderna. E se passate da Venezia ricordatevi che potreste incontrarlo anche voi. John Law è sepolto qui nella chiesa del San Moiseo. Ma se alla fine l'opera di John Law sia stata positiva o negativa lo lascio a voi che io per oggi mi fermo qui. Come al solito io sono Edoardo questo è Start in Finance e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!